Due vigili del fuoco stavano raggiungendo i colleghi per aiutarli a spegnere un incendio divampato in un'abitazione quando sono usciti di strada a bordo di un autobotte. L'incidente si è verificato intorno alle 11 di questa mattina sulla statale 45 tra Ottone e Zerba in località Losso. Per cause da chiarire il mezzo pesante è uscito dalla carreggiata finendo in una scarpata. I due pompieri di 40 e 58 anni sono rimasti incastrati all'interno e uno di loro è riuscito a chiamare i soccorsi. L'intervento è stato complicato e ha visto in azione altri vigili del fuoco e tre elicotteri arrivati da Parma, Pavullo e Bologna. Il 58enne è versa in condizioni più gravi ed è stato trasportato all'ospedale di Parma, l'altro è stato condotto all'ospedale di Piacenza. Il tratto di strada è stato interrotto in entrambi i sensi di marcia per consentire l'intervento dei soccorritori.